Abitanti di Settore Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso... Gli abitanti del Volt da questa parte! Oddio! Non posso perderli! È tutto quello che ho! Scusa? Dov'è? Dov'è? Chi se ne importa di una stupida valigia? E' assurdo! Io solo la volta! Non puoi entrare! Io entrerò! Non potete... Signore! Ehi! Fanno entrare te e non me! Siamo nel programma! Alcune! Dobbiamo entrare! Siamo sulla lista! Bambino! Per arrivare le bombe! Che importa se siamo nel programma! Ok, procedendo! Grazie! Buona fortuna, signora! E che Dio ci aiuti! Voi due! Seguitemi! Forza! Chi ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile! Non vi fermate! Signore! Dobbiamo mandarla giù nel Volt! Salga sulla piattaforma! Salite sulla piattaforma! Al centro! ci siamo quasi! Ce la caveremo! Vi amo! Tutti e due! Ti amiamo anche noi! Oh mio Dio! Vieniti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio! 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 Ehi! C'è la bomba! Ehi! Quella era una bomba! Una dannata bomba! Sendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale! Non dovete preoccuparvi! Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa! Volt 111! Un futuro migliore sotto terra! Quindi dobbiamo... Sì! Salire le scale! Non posso crederci! Se fossimo usciti un minuto dopo... No! No! Siamo tutti! Ehi! Non dovete pensare a queste cose! Ora siete al sicuro! Salite quelle scale e proseguite oltre quella porta! La Voltek è qui per voi! Da questa parte, prego! A tutti i nuovi residenti... Per favore, procedete con calma! Da questa parte! Tutto è a posto! Avvicinate al tavolo! Prendi una tuta! Vi serviremo le tute per procedere oltre! Grazie! E adesso? Segui il dottore! Ehi! D'accordo! In fondo a quel corridoio laggiù! Avvicinatevi al tavolo! Benvenuti! Prendete una tuta! Questa è la nostra nuova casa! Oh, vi piacerà! È una delle nostre strutture più avanzate! Non che le altre non siano... Scusa! Da questa parte, prego! Prosegui in quella sala! È andata! La nostra casa! Tutte le nostre... Ehi, abbiamo perso tutto! Oddio, tesoro! E se non ce la vissero fatto... E se non ce la vissero fatto... Muoversi! Non verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Spunterò i nomi man mano che entra... per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda! Pronti per il futuro! Giusto? Scusa! La Voltec è qui per voi! Sali qui subito e indossa la tua tuta del Volte! La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel... Rilassati! Inizia una nuova vita! Residente al sicuro! Segni vitali! Normali! Procedura completata! 3, 5, 4, 3, 2, 1... Abbiato, bypass, normale, stasi criogenica, sospita! E' questa qui! Ecco! Abbiata! Abbiata! Andrà tutto benissimo! Lo sape! Vieni qui! È il mio figlio! Lascia andare il bambino Non te lo vediamo No, ti da lasciare! Forne il bambino vuole di quindi invece Iniziate Esattiva Iniziate 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 Riavviata Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 C'è qualcuno ancora vivo. Qualcuno è riuscito a uscire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.